Allora, la sinistra vive di regolamenti, cioè tutte le differenti sinistre del mondo hanno solo una cosa in comune, cioè che non vogliono lasciare il mercato libero, che loro considerano un mercato selvaggio, di dominare l'economia e vogliono comunque regolamentare tutto e adesso con la crisi del riscaldamento globale che loro, la sinistra, attribuiscono a quello che fanno gli uomini, non il ciclo che si è visto nella storia, di caldo e freddo e così via, la sinistra vuole regolamentare tutto, quindi le sinistre del mondo vogliono regolamentare. Si è parlato di Bolsonaro e Bolsonaro ha tutto questo profilo di essere destra, eccetera, eccetera. Il fatto è che lui ha deregolamentato il Brasile e ha risolto un problema che i governi brasiliani hanno tentato di risolvere per 50 anni, cioè il sistema pensionistico folle, dove i professori all'università di Rio andavano in pensione a 40 anni e lui ha risolto. Nel caso di Trump, Trump ha fatto mille cose, ma l'unica cosa importante era diregolamentare, perché lui dice che le tecnologie cambiano ogni giorno e i regolamenti le riscrivono dopo 35 anni e con questo ha vinto la sua battaglia economica.